All'istruzione del ciccidale della scuola di Piedagaccio Non è di arrivare in fondo domani a vedere come funziona perché la discesa è molto esidiosa, bellissima per il pubblico che invito ad andare a vedere, merita veramente Il primo avventurato che non c'è ne compende al WRC c'è Dino Lavorato al... Ah, sì, sì Ma cosa c'è detto? Non ho raccontato, neanche... Allora, divertiamoci, il corso volonese All'interno... Speriamo di fare una bella gara, di farla anche battagliata Qui c'è il percorso che è molto bello, divertente Non posso mancare la notte Giusto, è giusto Non posso mancare Non solo la gara di casa, la tua La nostra Ah, la nostra, giusto, è corretto, sei un altruista Vai Marco, divertiti Sala Golf, la Volkswagen Golf di Banca Sanéi con Maria Allegretta